Stamani Matteo Messina Denaro non si è presentato al processo per le stragi di Capaci e Via D'Amelio, non collegandosi con l'aula bunker di Caltanissetta. Qui era stata predisposta la diretta audiovisiva con il carcere di massima sicurezza dell'Aquila, in Abruzzo, dove si trova attualmente Matteo Messina Denaro. Intanto, dopo la rinuncia del mandato da parte del suo legale Lorenza Guttadauro, è stato nominato difensore d'ufficio Calogero Montante. L'udienza è stata rinviata al 23 marzo.